E siamo unitati in un'altra casa speciale di questa 24 ore, è la casa PFW, Pastina, Fanni, Veneto, Fanni, Renzo e Veneto Equip, ma andiamo di acronimi, andiamo qua sulla metabella tutta gialla e blu, e siamo con uno dei componenti della squadra che oggi si è già spesso alla grande, Edgar Cana, amico del Karting Angels, e oggi proprio a rimontare, facciamo anticipato che fanno il torno in 27 condizioni rispetto a un via, 27, e ha segnato anche il giro veloce. Edgar, parloci di questa tua prima parte di gara e poi ci riposenterai Cana PFW. Direi bello, sta bene, sono contento, forse la manifestazione più importante dell'anno, un buon livello di squadre, qui oggi interessante a livello di squadre, di piloti, sono tante squadre internazionali e i nostri vicini di casa sono forse la squadra più forte del mondo, dopo cui ci dobbiamo sempre combattere. Direi tutto molto bene, i kart come sappiamo sempre hanno un po' di differenza, ma ormai questo è il mondo dell'endurance, chi li vuol fare deve accettarlo, tento utilizzare il meglio, ma lo facciamo sempre con un spirito un po' struttivo, sempre un po' tra amici, un po' per esempio, il fatto di rivedersi sui campi di gara così per piacere, si stacca da quella che è una quotidianità che è un po' stupato, no? Lavoro negativo, con tutti i problemi dei... No, devo dire, sono contento e sono anche contento un po' per gli amici, di Martisan, di Champ, perché comunque quando riesci a portare 35 squadre in una pista italiana, con tutto quello che può commutare il posto, con lo sforzo e far sì che tutto vada, perché sta andando tutto bene, onestamente a me, visto che nella mia vita personale, dirigo un'azienda sufficiente per loro, è successo, è un bel successo e lo vivo appieno. Speriamo di riuscire a stare davanti, adesso siamo a Sicoria, andiamo lottando assolutamente con Modal, sono fortissimi e, insomma, ci rivederemo più in partiti. E infatti, la 24 ore che è corsa in pista italiana, ma ha più o meno del 70% dei equipaggi del nostro straniero. Forse la gara più internazionale che abbiamo visto negli ultimi anni, e devo dire, sì, peraltro, riescono alla pista stupenda, io definisco il tempo del campo. Bene, Erga, voi che avete vinto due anni fa il Mondiale di Soli, come trovi il livello della gara di oggi? Molto alto, come dicevo prima, sembra un piccolo mondiale. La preparazione a un mondiale che magari uscirà da Parigi? Eh, vi dico, qua accanto, sembra che esca proprio da Parigi, e posso accarezzare l'Italia, però mi fermo qua. Magari non chiedi un altro questione, io non voglio dire cose che non dovrei. Bellissimo, certo. Ma ti auguro per noi italiani, se ce lo metteremo, voi che avranno la fortuna di gestirlo, sarà assolutamente lo stesso interno. Però qua accanto i nostri amici votati, contano un cinque volte campione del mondo, Erwin Capras, Fabio Poleschi, che è il capo della squadra, ha vinto tutte le 24 ore possibili, l'esperienza fazzesca. E si sappertutto, bravissimo, voglio dire, signori, io ho visto tanta gente correre, ma ogni tanto bisogna fermarsi e dire, chapeau. Benissimo, vediamo lo chapeau dalle varie di tutti. Siamo un uomo di tempo senza distruggare. Allora, la casacca butte... Allora, innanzitutto la preparazione prevede una parte ospitalica per i piloti, una parte diciamo di preparazione dell'iscrizione, una parte, in termini di telemetria, quella dove rileviamo i tempi e le anomalie quando ci sono, una parte che vede come il manager Luca Bonazza, con cui ormai ha visto un rapporto lungo, è un secondo padre. Che una volta, però me lo ricordavo quando era giovane, stava sul... Stava su, adesso sta seduto, però io non ce la fa più. Stava seduto sul Trabatello tutta la volta. Però diciamo che è la voce che ci accompagna, abbiamo Polo Gambarotto che è parente di Luca, persona che ci segue, mi sa che ho detto una cazzata, ma va bene, che ci segue, che ci segue su tutta la parte del cambio. E poi abbiamo... Poi abbiamo... Il mitico Pastina, ha detto Pastina, è una storica per noi, diciamolo forse, due delle persone più importanti, non solo il nostro sponsor, uno dei due sponsor, ma il cuore più santo di tutta la nostra squadra. Vedete a lui che tutto è iniziato e continuano a lavorare. Che ricordiamo... Ci tengo però, scusatemi, non ultimo e non meno importante, Rocco... Andrea Rocco, che è un altro pilota, è per noi oggi il vero sponsor della squadra. Perde talmente tanto del gruppo che sta investendo i suoi soldi, quindi voglio dirvi comunque grazie per te. Insomma, non è una cosa da poco. Abbiamo detto all'inizio che è un acronimo, Pastina. Pastina, Fanni, Formula, Puglia, dei due corsi, sei Luca. L'unione dei tre ha dato corso a questo gruppo. L'abbiamo già detto. Bene. E con questa squadra abbiamo vinto il mondiale. Però ci tengo a dirlo, anche con Damiano Marchese, che di quella occasione è che c'è parte della squadra. Quindi, onore al merito. e che oggi fa parte dello Stato organizzativo. Pastina 2016 e quarti l'anno scorso. L'anno scorso quarti e quinto. Infatti ci chiamano Legend. Questa comunione di forze italiane ha prodotto un'ottima spazio. Guarda, chiudo dicendo, non ho mai corso con piloti così forti e quel poco che sto imparando lo imparo da loro. Veramente altro storico accompagno è Fabio Torri, 50 anni. 50 anni mette dietro tutti. No. Carlo Alberto, quest'anno è entrato, adesso non è qua a riposarsi. Una bellissima squadra. Un bel andiero. Benissimo. Grazie Edgar. Bocca al lupo. Grazie. Ciao Pepi.